Palazzo Stabile, finalmente parte del patrimonio comunale. Abbiamo firmato ieri l'atto di acquisto per cessione volontaria in luogo di esproprio del Palazzo Settecentesco, lo dice il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. Dopo anni di propositi e vani tentativi, la nostra amministrazione, continuo Alfieri, è riuscita in due anni, nonostante i rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria, a portare a termine un iter lungo e complesso. L'immobile è una residenza d'epoca che si estende su una superficie di circa 600 metri quadri ed è costituito da due livelli, copertura e da una corte esterna che era adibita a giardino. Conserva il pregevole apparato decorativo della facciata principale e all'interno volte e pareti affrescate. Faremo di Palazzo Stabile una nuova sede del comune nel cuore del centro storico di Capaccio Pestum, sottolinea il sindaco Alfieri, e lo doteremo anche di una nuova e prestigiosa aula consigliare. Metteremo a disposizione degli organi istituzionali, degli uffici e dei cittadini un luogo di valore storico e architettonico degno della nostra città.